Questo programma è offerto da Tecnocampus Il programma è offerto da Tecnocampus Purtroppo tanti sono i fatti in questa mattina Non tutti piacevoli, soprattutto il braccio di ferro Proprio contro la Sea-Watch Ma soprattutto i morti per sfuggire alla politica di Trump E subito cominciamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali Cominciamo questa mattina con il Corriere della Sera Infatti vediamo proprio in apertura il problema migranti Salvini Famuro Sbarco negato alla Sea-Watch L'idea di barriere al confine con la Slovenia La nave forza il blocco Ferma davanti a Lampedusa Trattativa a oltranza con Olanda e Germania E intanto vediamo proprio nella parte più bassa di questa parte alta della pagina Tragedia Il padre e la bimba negati al confine USA-Messico Ora ci commuoviamo ma poi faremo qualcosa Questa è la domanda che si pone proprio oggi il Corriere della Sera E della domanda che pongo a tutti voi Mettere in primo piano e soprattutto in prima pagina una fotografia del genere Ha valore oggi o viene solamente utilizzata, strumentalizzata e poi alla fine non si arriverà a nulla Insomma questo è il punto cruciale I fatti devono essere raccontati, le immagini devono essere mostrate Ma non bisogna rimanere immobili di fronte alle disgrazie che comunque coinvolgono l'intera umanità Questo è il punto centrale di qualsiasi politica possa essere proprio al centro di tutta la vita degli esseri umani Ma troppo spesso le immagini ci lasciano sgomenti, ci fanno parlare, ci fanno anche commuovere Però poi tutto rimane come se in realtà altro non fosse che un'immagine lontana da noi E niente di possibilmente vicino a casa nostra Ma questa non è la realtà, è purtroppo quello che oggi i giornali ci stanno mostrando Ed è purtroppo quella che una realtà ogni giorno si mostra davanti ai nostri occhi, a noi agire Ancora vediamo gli altri fatti raccontati dal Corriere della Sera Olimpiadi sospetti, giocate alla luce del sole Questo è quello che viene raccontato questa mattina nell'editoriale di Stella Sembra proprio che anche sulle Olimpiadi siano già iniziate le polemiche Appena nominata l'Italia come sede per le Olimpiadi la grande festa Dopodiché una serie infinita di polemiche, tutte italiane E staremo a vedere come effettivamente andranno avanti nel tempo E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Vediamo che cosa è successo nello scontro con la Sea-Watch Carola, la capitana, che ha comunque cercato di andare oltre il blocco e l'ha fatto E adesso dice, io so benissimo quello che rischio Però dice, questi uomini non ce la facevano più E ancora l'ILVA, sempre sul tema del governo, pericolo di chiusura a settembre E ancora una volta è quello che viene definito il passo falso della politica E ancora un altro rinvio sui conti e dell'ite sull'autonomia Insomma una vera e propria paralisi di governo Sembra essere mostrata da questa prima pagina del Corriere della Sera E intanto vediamo che cosa racconta la verità Che in apertura di pagina fa vedere i fatti della Sea-Watch Che infrange la legge ma il PD si schiera con i pirati La nave della ONG tedesca punta su Lampedusa Ignorato l'alto là delle forze dell'ordine Salvini difende i confini, non sbarcherà nessuno alla sinistra Poi continua a non capire nulla Invia una delegazione a dare il benvenuto ai migranti A bordo dei taxi del mare E ancora vediamo nella parte centrale della pagina Il capitana figlia di papà che vive la colpa di essere una bianca Così viene raccontata da questa prima pagina Ovviamente questa è l'opinione di una testata Poi ce ne saranno tante altre ma rimane sempre comunque un'opinione E ancora Repubblica ammette di avere pubblicato un virgolettato falso Attenzione quotidiano che avevamo beccato a titolare su un inesistente Sirimi è costato 30.000 euro Ieri ha esibito un brogliaccio che conferma quanto abbiamo scritto E ancora l'agricoltura Altro problema grave della nostra Italia In pericolo Nestlé lancia l'etichetta per sostituire i cibi mediterranei con quelli chimici E ancora vediamo le altre notizie nella parte bassa della pagina Eccoci qua Sala fa diventare gay anche Palazzo Marino Dopo le sue calze il sindaco di Milano Colora di Arcobaleno il municipio E ancora nella parte più bassa La regina delle fotoreporter Ho iniziato per fame Sono di sinistra Madoro Pound E intanto vediamo gli altri fatti in primo piano raccontati proprio dal Fatto Quotidiano E vediamo nella parte alta della pagina La rivolta delle regioni Che a Zoppe Navigator Aiuteranno soltanto gli impiegati dei centri per l'impiego Invece che i beneficiari del reddito di cittadinanza Insomma tutto l'opposto rispetto alla ragione per cui questa figura era stata concepita E intanto vediamo nella parte alta della pagina I silenzi ipocriti e il ministro della cattiveria raccontato in questa immagine Per i 42 della Sea Watch Le uniche parole sincere le ha dette Pietro Bartolo Il medico di Lampedusa eletto a Strasburgo con il PD Sarei dovuto andare a prenderli con la mia barca E fare in modo che arrestassero me Per il resto della politica Quegli esseri umani meritano soltanto il disprezzo del vicepremier Salvini Possono stare lì fino a Natale Intanto si watch a tre la guerra delle due propagande Sulla pelle di migranti ONG e Salvini La nave viola il divieto Scusate il leghista ci marcia Il capitano caro la racchete Spinge l'imbarcazione verso la costa Nonostante il tentativo del vicepremier di fermarla L'esecutivo minaccia ritorsioni contro l'Olanda Paese di cui batte bandiera la nave Intanto l'Unione Europea continua ad essere assente Nella parte centrale della pagina Di tutto di più La Di Salini chiede austerità Ma i voti più noti si oppongono La Rai e Neguai Vespa, Fazio e Conti Non si tagliano la paga E ancora la campagna per le multinazionali Evasione legale da 20 miliardi E ha nella parte centrale di questa prima pagina Milano-Cortina alle incognite Olimpiadi 26 Il CIO mette già le mani avanti Costi sottostimati Su due strutture E nella parte più bassa della pagina Lo stupidario Errori e orrori Nei temi e negli esami di maturità Donna-Struzzo Pensate un po' E il PC di Tognazzi E insomma L'ignoranza vince su tutto Ancora vediamo gli altri fatti Raccontati questa mattina Ci spostiamo sul quotidiano libero E andiamo a vedere l'apertura Il governo è morto Nessuno lo seppellisce Chi teme il voto anticipato I grillini sono terrorizzati Da confronto con gli elettori Forza Italia ha paura di dimezzare i seggi Zingaretti non sa come riordinare il PD E la Lega aspetta Prima mira a conquistare anche l'Emilia E nella parte centrale della pagina L'esperienza esaltante del cronista di Libero I miei amici delfini che mi seguono in mare Insomma Un racconto attraverso un'immagine Che sembra raccontare proprio diversamente Da tutte le altre testate nazionali Quello che è il mare nella giornata di oggi Oggi lo vediamo solamente come Culla per la politica Di ogni Di ogni ovviamente Di ogni colore Però adesso in questa immagine Lo vediamo come l'espressione massima Della vita E ancora vediamo nella parte destra Della pagina Italia al verde Italiani no Convento povero però I frati dice Questo quotidiano sono molto ricchi E nella parte centrale della pagina La nave di clandestini Viola qualsiasi legge La Sea-Watch Nonostante il veto della Corte dell'Unione Europea Punta su Lampedusa Salvini a srestarli tutti E intanto Vediamo un po' Quello che viene raccontato Voleva attraversare un fiume nuoto Che papà è Se fa crepare alla figlia Questa è la domanda Che si pone questo quotidiano E ancora nella parte bassa Fa una cosa umana e viene insultata Non sparate sulla Boldrini tifosa Infine nella parte bassa della pagina Trento ottenne in manette Da undici anni corteggiava Attenzione alle parole Ossessivamente una ex Il colmo Finire in carcere per troppo amore Ovviamente il titolo la racconta tutta Però effettivamente questo Non è assolutamente amore E intanto Quando muore un amico Moriamo pure noi Viene raccontato Proprio in questa parte bassa della pagina Proprio perché l'amicizia Rappresenta un valore inestimabile E soprattutto Uno di quei rapporti Che non si cancellano Nonostante la morte E ancora vediamo gli altri fatti raccontati In prima pagina Il giornale Mai così tante tasse Altro che flat tax Pressione fiscale da record La ricetta Movimento 5 Stelle Meno ilba Più cozze Si watch in Italia Salvini arrestati Lilla ONG Forza il blocco Il Viminale Non scendono ora ai muri E intanto vediamo I grillini anticrescita La zavorra che ci affonda Mentre nella parte centrale Un padre e la figlia Negati negli USA Migranti Orrore Ipocrisia Cosa ci dice questa foto? Insomma anche su questo Una riflessione Sempre in primo piano E ancora Conte congela tutto Per tornare dal G20 Da Salvatore dei Conti E ancora Nella parte destra Dei dixtini Legati a doppio filo Se il capitano Matteo Cerca di salvare Invece Il soldato Di Maio E ancora Casa Pound Scioglie il partito Basta politica Ma resta Il movimento E ancora Vediamo che Roma amico Del Papa 27 auto Il noma Della Casa Popolare Grazie al Movimento 5 Stelle Questa è la denuncia Che viene fatta Proprio da questo Quotidiano Intanto Vediamo nella parte Bassa della pagina La gaffa di Boldrini E Company Le femministe Nel pallone Per le azzurre E infine Se gli studiosi Ora rivalutano Il ventennio Sicuramente Avremo qualcosa Da dire E ancora Raccontiamo Gli altri fatti Questa volta Con il tempo Controordine La scala è ancora rotta Beffa Nella metro Stiamo parlando di Roma Hanno riaperto La stazione Repubblica Ma senza Aggiustare L'impianto L'escalatore Guasto Da ottobre È ancora Fermo E transennato E intanto I passeggeri Si arrangiano E vediamo Ancora Nella prima pagina Di questo quotidiano La ONG Che forza il blocco E sfida Salvini E' veramente Uno scontro diretto Mentre i giudici Impiccioni Ora vogliono pure Fare la manovra La corte dei conti Contro la flat tax E Totti Inizia già a sbuffare Silvio si prende il partito Qui comando Sempre io E insomma Scontri da tutti Su tutti i fronti Mentre l'allarme Rifiuti Sempre nella città di Roma L'allarme vicino alle scuole Nidi e ospedali Raccolta a rirento E caldo record La regione avvisa Le asle Verificare la rimozione Nelle zone a rischio E intanto La grande bellezza Passeggi a Villa Borghese E fai pace Persino con Roma Insomma La Roma La nostra capitale Raccontata In tutte le salse Tra rifiuti Ovviamente Quelli che purtroppo Non sempre Vengono raccolti In maniera Ottimale Ma anche Tra la sua bellezza Che rappresenta Il vanto Di questa nostra Penisola E intanto Vediamo La Repubblica SeaWatch.org Forza capitana La SeaWatch Comandata da Caro La racchetta Ignora l'alte E a proda Lampedusa Con i 42 migranti Lira di Salvini Vanno arrestati L'Olanda Ne risponde Ipotizza Un muro Antiprofughi A Trieste Padre e figli Annegano intanto Sulla frontiera Messico USA Drama Senza confini Insomma Una doppia faccia Per questa giornata Che viene raccontata Proprio dai quotidiani In disprezzo E in dispregio Di quella Che è la vita E infatti La palla adesso È in mano Alle autorità Italiane ed europee Che dovranno Trovere il modo Di risolvere La situazione Questo lo dice Proprio la Repubblica La giovane tedesca Alla guida della nave Oltre alla multa Fino a 50.000 euro Rischierebbe Come ipotesi di reato Le accuse Di rifiuto di obbedienza A nave da guerra Per il quale La pena massima È di due anni E resistenza O violenza Contro la nave da guerra Per il quale Il codice della navigazione Prevede fino a 10 anni E le potrebbe Venire contestato Anche il reato Di favoreggiamento Di immigrazione Clandestina Per cui sono previsti Dai 5 ai 15 anni Non è chiaro però Se il decreto Salvini Inglobi tutto questo Se la sanzione Amministrativa Prevalga Su quella penale Insomma E mentre tutto questo Si valuta adesso In relazione A quanto Ha fatto questa capitana Adesso che cosa accade Lei dice Non potevo fare Altrimenti E intanto Vediamo nella parte bassa Della pagina Il commento L'onore di disobbedire Mentre il racconto Della fotografia Che ritrae appunto Un papà e una bambina Morta Abbracciati Sulla sponda Di un fiume Quanto ci fa male Quanto ci fa male Questa fotografia Questo racconta Repubblica Intanto Si parla ancora Di lavoro Di economia Tutto in Italia E si parla di Ilva Schiaffo al governo Mittal Chiusura A settembre Questo è quello Che viene raccontato E presumibilmente Questo accadrà Fra pochi mesi E ancora Roma Invasa dai rifiuti I bimbi e i malati A rischio L'allarme alla regione Mentre per la pressione Fiscale Pensate un po' Le tasse sarebbero salite Al 38% Non accadeva Dal 2015 Insomma Tutto il contrario Di tutto Una situazione Sempre più controversa Che viene raccontata Ogni giorno Intanto vediamo Il mattino Cosa ci racconta Il fenomeno Si parla dello sport L'estate delle donne Cuore, talento E voglia di stupire E sempre portano I risultati Portano Tante Tante polemiche E intanto Vediamo il mercato De Laurentiis Chi vuole prendere Allano in signe Faccia subito Un'offerta Per la serie Ora o mai più E intanto La storia Da 26 anni Con Lazzano Sono la Totti Della Pallavolo E ancora Vediamo Nella parte centrale Della pagina Napoli in ospedale La sede di Gomorra Maxi Blitz 126 arrestati Il San Giovanni Bosco Base logistica Del clan E infatti L'ospedale delle Formiche Era diventato La base logistica Del clan Dell'alleanza Di Secondigliano In chiesta Della procura di Napoli 126 ordinanze Cautelare 86 in calcio E il commento Corruzione Controllo mafioso Le zavorre Che continuano Ad opprimere La sanità Da ancora oggi E intanto I dati di Palazzo Chigi Lo spacca Italia E il dossier Che smonta L'autonomia Nell'editoriale Di Gianfranco Viesti E infatti Si parla proprio Non sembra proprio Che il problema Del liquidabile Sia liquidabile Come semplice Discussione A livello Di burocrati Ministeriali Che la riforma Non la vorrebbero Come è stato detto L'altra sera a caldo Stiamo parlando Delle richieste Di autonomia regionale Differenziata Lo spacca Italia Come opportunamente Definito Da questo giornale Delle questioni Che esse Sollevano Di funzionamento Della democrazia Parlamentare Insomma Questo viene raccontato Proprio dal mattino Un vero e proprio dossier Che racconta L'Italia Che vuole essere divisa In base Alla richiesta Di autonomia Regionale E che comunque Rappresenta Una vero e propria Separazione Dell'Italia In varie frazioni Cosa che ovviamente Era stata eliminata Già a suo tempo E ancora Vediamo Nella parte centrale Della pagina Anche qui si parla Di ILVA La mita L'avvisa al governo A settembre L'ILVA chiude Il gruppo contro La nuova legge Che cancella L'immunità Per gli interventi Ambientali A rischio futuro Dell'acciaio E di Maio Non accetto Ricatti La legge È uguale Per tutti Mentre vediamo I dati dell'Istat Con la manovra La pressione fiscale Raggiunge il 38% E ancora Vediamo In primo piano A braccio di Ferro Lampedusa La Sea-Watch Forse il blocco L'Ira di Salvini Non scenderanno Mentre che cosa Accade a Napoli Io spazzino volontario In cambio del reddito Munito di pettorina Guanti e sacchetti Che ho comprato Di tasca mia Dice Scopa e paletta E' così che Domenico Renzullo 53 anni Ex operaio Metalmeccanico Si porta dietro Anche un bidone Con la sicra RDC Ho voluto scriverla Per far capire Alla gente Che anche se percepisco Il reddito di cittadinanza Non voglio rubare Niente a nessuno Ma guadagnarmelo Per accogliere i fiuti Che rimuove A San Pietro A Patierno Un esempio Che molti nel quartiere Stanno già apprezzando Per un esempio E per un semplice motivo Mimmo non percepisce stipendio Ma ripaga così Volontariamente Il reddito di cittadinanza Che percepisce E ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina C'è chi ancora sogna E chi invece Riesce Ad avere Realizzato il proprio sogno Attraverso Una vincita Da record Il 6 da 178 milioni Caccia al supernalotto Da record Con un euro Compro appunto Un sogno E infatti sentivo Proprio nella giornata Di ieri Che ci sono anche Sposi Che anziché Chiedere la tipica Busta O un regalo Chiedono semplicemente Dei gratta e vinci A questo siamo arrivati Probabilmente sì Ma il sogno Di poter Avere Sempre di più Ci fa fare Gesti incredibili E ancora Vediamo le altre notizie Sui quotidiani nazionali Dal gazzettino Giudice Lascia a rischio Il processo Il processo BPPV E intanto Il PIL 2018 Del nord est Uguale a quello tedesco Mentre nella parte centrale Barriera anti-immigranti A nord est Nuovo fronte I servini Se continuano gli ingressi In Friuli Venezia Giulia Mureremo la frontiera Mentre la Sea-Watch Forza il blocco E arriva A Lampedusa E ancora nominata Mi ha saputo A meglio la cucina Della politica L'intervista All'ex assessore Coppola Entra in Veneto Sviluppo E ancora Vediamo gli altri fatti Raccontati dai quotidiani Nazionali Ci spostiamo sul dubbio Vediamo in apertura Di pagina Il mondo scosso D'immigranti L'odissea della Sea-Watch L'orrore a confine messicano Salvini contro la ONG Dice Pagherete E l'indignazione Gli USA Verso Trump E ancora Nella parte bassa Della pagina CDM Da rifare Slittamento a mercoledì Autonomie inceppate Scontro nell'alleanza Mentre la corsa Al CSM Di Matteo L'immaginò Delle toghe Ed infine Nella parte bassa Della pagina Costituzione Da rispettare La riforma Non può essere blindata Questo a dirlo È presunto Il Movimento 5 Stelle Mentre a Romeo Della Lega Redistribuire Le competenze Serve a tutti Al nord Ma anche al meridione Insomma Le due visioni Proprio di una Medesima procedura Che è quella Relativa alle autonomie E ancora Vediamo gli altri fatti Raccontati dai quotidiani Nazionali Lazzaro e dell'Inter Corriere dello sport Il 23enne esterno Destro Dell'ERTA Voluto da Conte È costato 21 milioni Più bonus Intanto Manolas Di Avarà Sia La Roma Il guineiano È 16 milioni Dell'Aurentis Costas E Coulibaly Grande coppia E in centro pagina Commisso Blind Il gioiello Viola Scordatevi Chiesa Sono convinto Che resti Alla Fiorentina Vorrei farlo diventare Una bandiera E costruire di attorno Una squadra Che fra qualche anno Lottasse Per lo scudetto Mentre La Roma Non parte Che cause La rabbia Dei giocatori Ed infine Una città senza pace Palermo Incubo Serie D E ancora Vediamo gli altri fatti Raccontati sulle prime pagine Dei quotidiani Il giorno della svolta UEFA Tutto sport Toro L'Europa può arrivare Il 5 luglio I Granata hanno deciso Di anticipare La data del ritiro Mentre la Roma Ha posticipato Il ritorno al lavoro E intanto Ragazze Ci avete fatto Innamorare Un vero e proprio Record Uno dietro l'altro Sabato il quarto Con l'Olanda E ancora Nella parte centrale Della pagina Buffon Torna Barzagli Nello staff Riecco La BBC E intanto Un muro per Sarri E nella parte sinistra Della pagina Giglio Ai saluti Reina Sarà Titolare E Milano Cortina 2026 E il gran gol Di Zanga E con questa notizia Che riguarda appunto Le Olimpiadi Facciamo una piccola pausa Ma tranquilli Ritorniamo subito dopo Quindi non andate via Ritorniamo subito Un po' Ritorniamo subito E al prossimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tecno Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex San Goben Caserta. Tecno Campus, la soluzione al centro. Tecno Campus, la soluzione al centro. Il conto che viene fatto dal quotidiano La Repubblica prima di andare avanti con le notizie della regione Campania. La prima cosa bella, questa è una rubrica che viene fatta proprio su questa testata, del 27 giugno racconta della rivincita delle bibliotecarie. Nel film americani, quando si vuole attribuire a una donna un destino in colore, che non lascia tracce, per lei si predice un avvenire da bibliotecaria. Invece Arianna viveva a Sustinente nella pianura intorno a Mantua e si occupava di una biblioteca a breve distanza e stava recuperando quella del suo paese. Se ne è andata soli 38 anni da allora, ogni estate, questa è la sesta, viene organizzata una serata letteraria in suo onore. Vengono i familiari, le amiche, il sindaco, i gruppi di lettura voluti da lei. Viene chi la conosceva, chi ha letto un libro consigliato da lei, viene un autore a parlare dei libri che ha amato più che dei propri. Più ancora che per il pubblico viene per lei, perché chi scrive libri non esisterebbe senza chi ama leggerli, così come il pubblico. Più ancora che per l'autore viene per lei, Sustinente ha 2031 abitanti, ne viene un quinto. Un cortese, anziano, signore, apre per la circostanza il palco della sua villa inondata di rose, altrimenti inaccessibile. Anche le zanzare abbassano il volume, sbagliano i film americani. La vita di una bibliotecaria ne tocca centinaia, le belle vite sono come i bei libri. Finisce la storia ma continua la memoria, l'insegnamento, il soffio che gira una pagina senza che nessuno la sfiori. Insomma, questi sono i fatti raccontati questa mattina proprio della vita di una donna. Molto spesso, ripeto, come in apertura di rassegna stampa, le immagini ci lasciano sconvolti, ma troppo spesso quella sensazione che proviamo all'inizio poi sublima e diventa praticamente un nulla. Quando invece con la propria vita si riesce a fare qualcosa di importante e lo si trasmette a tutti, probabilmente resta un segno indelebile per la vita e quello sia un valore aggiuntivo. E ancora vediamo i fatti raccontati questa mattina, sempre dai quotidiani online. La Repubblica Università di Annapolis, coppia il caso della coppia dei corridori al porto, che non somigliano assolutamente all'originale. Infatti le vediamo proprio nelle immagini. Ne vedete il paragone, ovviamente la distinzione è netta. Da oggi Port of Limits, ingresso riservato solo agli accreditati, la stazione marittima, si trasforma e diventa un mega villaggio per gli atleti, vista in esclusiva proprio da questo quotidiano. Saranno accolti da una coppia dei corridori di Villa dei Papiri, esposti al MAN, e da ieri in mostra negli USA, simbolo dell'atletica, scelta dall'ARU assieme al tuffatore di Pestum, che sarà installato alla mostra d'oltre mare, realizzata a Scabec. E sulla mega scultura all'ingresso della stazione marittima scoppia un caso. Le coppie non sembrano avere corrispondenza con l'originale e suscitano grandi perplessità, tra i primi che le hanno viste. Ovviamente dalle perplessità alle polemiche il passo è breve, ma soprattutto, come si dice sempre, l'importante è parlarne. E ancora vediamo, sempre dalla Repubblica, Napoli, la camorra in ospedale, la ministra Grillo, sciogliere il San Giovanni Bosco. Particolari inquietanti emergono infatti dall'inchiesta della Procura di Napoli, che ha fatto scattare oltre 100 arresti. Il clan lucrava sui pazienti morti, falsificando i documenti per farli dimettere. E infatti adesso a parlare è proprio la ministra della Sanità, Giulia Grillo, che chiede di sciogliere il San Giovanni Bosco. E' il nosocomio balzato più volte alle cronache per la presenza di insetti nei reparti e per infiltrazioni nella gestione del parcheggio. Particolari inquietanti infatti emergono dall'inchiesta della Procura di Napoli sull'alleanza di Secondignano, che ha portato a maxi blitz interforze in tutta Italia. Sono scattate infatti 126 ordinanze. Il clan Contini, nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, lucrava anche sui decessi. Chi aveva necessità di riavere quanto prima la salma di un proprio congiunto deceduto, non doveva far altro che rivolgersi agli uomini del clan, dopodiché il gioco era fatto. E ancora vediamo sempre i fatti raccontati dai quotidiani online. Ancora una volta vediamo la Repubblica Napoli. Addio a Loredana Simioli. Raccontò la sua battaglia contro il cancro, rutto nel mondo dello spettacolo. L'attrice aveva 41 anni ed era molto amata dal pubblico. I funerali laici nella Galleria Principe di Napoli questo pomeriggio. E infatti è morta a 41 anni. Loredana Simioli, attrice e presentatrice, dalla battuta pronta e dal sorriso aperto, era molto amata dal pubblico. Loredana, sorella del conduttore radiofonico Gianni, ha combattuto a lungo contro il cancro, raccontando la sua battaglia con video e flash mob, per trasmettere coraggio e speranza alle persone proprio colpite dalla malattia. Insomma, un beneficio per tutti, anche se poi la battaglia termina così. Però, ovviamente, chi combatte sa benissimo che ogni passo in avanti è un passo che fa bene proprio alla propria anima. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati su questo quotidiano. Migranti, bandiera dorata al maschio angioino, sarà simbolo di accoglienza. E infatti il maschio angioino diventa simbolo di questa accoglienza tanto desiderata. Una bandiera dorata realizzata con le coperte salvavita, sventolerà sul castello della città da oggi, giovedì 27 giugno. Il drappo d'oro, opera dell'artista fiorentino Giovanni De Gara, è fatto di coperti isotermiche normalmente usate per il primo soccorso in caso di incidenti e calamità naturali ed entrate nell'immaginario collettivo come veste dei migranti soccorsi in mare. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati. Ci spostiamo sul mattino e andiamo a vedere proprio che cosa ci riserveranno le universiadi in TV. Milioni di spettatori dirette anche in Asia. 1.102 giornalisti accreditati, 81 televisioni internazionali per un audience di 890 milioni di persone. Napoli e la Campania sotto i riflettori per i giochi universitari che cominceranno il 3 luglio con la cerimonia inaugurale allo Stadio San Paolo. È imponente lo schieramento delle televisioni asiatiche che invaderanno l'International Broadcasting Center della Mostra Volte Mare. 40 inviati della CCTV cinese, 20 director della giapponese Aashai TV che hanno una cabina di montaggio loro dedicata all'Ibici Flegreo. Anche Eurosport trasmetterà dirette come Rai Eurovision, Fosu TV e la televisione giapponese. Insomma saranno 550 le ore in diretta e 1.200 quelle registrate. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati oggi da Il Mattino. Si parla anche di Gronaca, rifiuti a Napoli, vertice Asia in bilico. De Luca, cattiva gestione. Lancia infatti l'affondo sul tema rifiuti presente della regione Campania, Vincenzo De Luca, mettendolo in mirino Napoli. In città ci sono grandi problemi sull'ordinaria amministrazione. Nella sostanza Asia, l'azienda per la raccolta rifiuti, non funziona come dovrebbe. Non una novità, i malumori verso il management di quell'azienda, tanto da venire fuori chiaramente anche nel Consiglio Comunale di 48 ore fa. I FED con il sindaco De Magistris che non teme l'emergenza a cavallo delle universiadi e nemmeno dopo ma lancia anche in questo caso un allarme serio. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati sempre da Il Mattino. De Luca per le Olimpiadi Invernali, un miliardo d'arconi, e qua si fa sentire e dice all'universiadi invece zero. E questo è un allarme inquietante. Infatti sulle universiadi abbiamo fatto tutto con le nostre forze. Mentre ho visto che per le Olimpiadi Invernali c'è un contributo di quasi un miliardo di euro del CIO e di altri 400 milioni dello Stato italiano. Ma va bene così, siamo orgogliosi di aver dato una prova di efficienza straordinaria. E quanto ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, proprio sul tema delle universiadi e soprattutto sul scarso aiuto che è stato dato a livello economico. E ancora vediamo che ieri la fiaccola delle universiadi è approdata a Caserta e ha infiammato proprio il pomeriggio. I 15 tedofori a cui si è giunta per ultimo al tratto l'assessore regionale Sonia Palmieri hanno accompagnato per le strade del capoluogo il simbolo delle universiadi 2019 che partiranno ufficialmente la prossima settimana a darsi il cambio lungo il tragitto. Partiti da Viale e Littico, passando avanti alla Regia fino a Piazza Margherita, sono stati Adam Sotriadis, General Coordinator Summer University di Napoli 2019, Biagio Sergio, Clemente Santonastaso e ancora Angelo Musone, Cristian Costarella, Giuseppe De Pascale ed Antonio Di Lella. L'ultimo tratto con la fiaccola è stato compito dell'assessore regionale Sonia Palmieri che è giunta sul palco arrestito al Monumento ai Caduti dove ad attendere tra gli altri c'era il sindaco di Caserta il presidente della provincia ed il questore Antonio Borrelli. Insomma una vera e propria manifestazione che ha emozionato, incuriosito e soprattutto ha soluvato tante questioni soprattutto sulla conoscenza o meno di questo grande evento che dalla settimana prossima infiammerà tutta la regione campania. E intanto un'altra novità per le strutture campane ma in particolare Caserta che riguarda la nomina della Maffei come direttore della reggia di Caserta a quanto pare la sua nomina è stata sbroccata per i giudici di interessi e monumenti o vengono prima della diatriba col candidato escluso. Infatti un sale scende fatto di ricorsi e contro ricorsi a cui finalmente il Tar potrebbe aver messo almeno per ora la parola fine e così la reggia di Caserta ha il suo nuovo direttore Tiziana Maffei. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da Caserta News. Chiuso il processo ai politici per la vendita dell'ex cinema. Questo è il riferimento a Sessa Aurunca. 8 assolti per altri 5, non luogo a procedere. E vediamo 8 assoluzioni a sentenza di non luogo a procedere per altri 5. Questo verdetto del gruppo Rosaria dello Stritto al termine dell'udienza preliminare per l'inchiesta sull'ex cinema a corso di Sessa Aurunca. Il giudice ha assolto tutti gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato perché il fatto non sussiste. Sono stati scagionati l'ex capo del settore finanze del comune Antonietta Politella, difesa l'avvocato Angelo Librace, l'ex sindaco Luigi Tomasino e Umberto Valletta, entrambi difesi dall'avvocato Antonio Tomasino. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati dai quotidiani online. Ci spostiamo sul quotidiano Caserta Prima Pagina e vediamo la cronaca. Soldi o botte arrestati i protettori di una prostituta. I carabinieri a stazione Gricignano di Aversa, all'esito di un'indagine coordinata da Procurare della Repubblica di Napoli Nord, hanno infatti eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 44 anni e residente a Caevano, in provincia di Napoli, e di una donna, 37enne, di Gricignano di Aversa, per sfruttamento della prostituzione. L'indagine condotta nel corso del mese di maggio ha permesso di raccogliere un grave quadro indiziario in merito all'esistenza di un vincolo di assoggettamento posto in essere nei confronti di una donna costretta dalla coppia a prostituirsi di Traversa e Castel Volturno fin dal 2016. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da Caserta Prima Pagina, il dissequestro dell'allevamento di cani. Infatti dopo due mesi è stato dissequestrato l'allevamento di cani a Macerata Campania, sempre in provincia di Caserta, il pubblico ministero Pontillo della Procura della Repubblica di Santa Maria, a Capo a Vetere, ha dato il placet al dissequestro della struttura a cui erano stati posti i sigilli nell'aprile scorso. Accolta dunque l'istanza l'Avvocato Musore, che rappresentava il proprietario dell'allevamento di cani residenti a Macerata Campania, che ha attestato come gli animali fossero in buone condizioni. Il sequestro ha scartato a seguito dei controlli dei medici veterinari dell'Azio di Caserta a Marcianise, insieme ai carabinieri della forestale di Marcianise, che avevano riscontrato come i cani fossero tenuti recinti più piccoli rispetto alle loro esigenze. E faccio mia proprio questa notizia, proprio perché riguarda gli animali, e vi invito, visto che ormai siamo proprio nel cuore caldo, è proprio il caso di dirlo, dell'estate, ed è il momento in cui vengono abbandonati più cani, più animali, sempre e da sempre, purtroppo, ovviamente cercate di dare amore agli animali che avete in casa. Non sono degli oggetti, ma sono degli esseri viventi, quindi non abbandonateli per nessuna ragione al mondo, piuttosto dateli a qualcuno che con amore ve li potrebbe curare, trattare, ma soprattutto ricordate sempre che sono esseri viventi. E con questo appello termina qui la rassegna stampa di oggi, vi ringrazio per essere stati con noi e per aver scelto Teleprima, vi invito ancora una volta a seguire tutti i programmi della giornata, e soprattutto vi do appuntamento a domani. A voi tutti un grazie e un particolare grazie a TecnoCampus, che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione e farla in diretta con voi, e soprattutto l'augurio di una splendida giornata. Questo programma è stato offerto da TecnoCampus. a tecnoCampus. a tecnoCampus. a tecnoCampus. a tecnoCampus. a tecnoCampus. a tecnoCampus.